Presentato il bando Under 35 Digital Vidal Contest, giovani protagonisti, promosso dal fin con Miss Antolino Piemonte. Che bando è? Allora, questo bando che inizia oggi il suo percorso e avrà una scadenza per fine marzo 2018, è un bando dedicato ai giovani, agli Under 35, per progetti che appunto coinvolgano almeno il 50% nella squadra di ragazzi tra i 18 e i 35 anni, nati o residenti in Piemonte, ed è un bando per sostenere progetti digitali interattivi, cosa intendiamo? Web serie, web doc, tutte le forme di digital video realizzati per internet, per i web, seriali, diffusi attraverso i social network, tutto quello che è la creatività giovanile che fino ad ora appunto ha avuto una grande vitalità, ma non così vicina al mondo professionale e alle istituzioni. Allora, grazie a Regione Piemonte, politiche giovanili, l'intervento di questo bando è per realizzare dei progetti che raccontino i giovani la loro realtà e i loro problemi avendoli non solo come protagonisti, ma anche come diretti realizzatori di storie e progetti interessanti, originali, che siano diffusi attraverso web in tutta Italia, in tutto il mondo, e l'idea è quella di dare uno strumento che appunto dia un contributo economico dai 5 ai 20 mila euro a singolo progetto perché possano essere realizzate queste iniziative con il coinvolgimento di professionalità, dei talenti del territorio e che siano stimolo e espansione di quella che è una creatività che crediamo meriti di essere scoperta e valorizzata. Ma ci si può iscrivere al bando? Attraverso il sito di FI Commission sono disponibili tutte le informazioni, il bando, l'application form, è possibile inviare i materiali, appunto fino a marzo 2018, una commissione valuterà e sceglierà i progetti e l'importo economico di sostegno ai progetti. Quali devono essere requisiti fondamentali per i progetti? I requisiti fondamentali è che siano progetti originali, interessanti e che siano concepiti specificamente per i web, che raccontino i giovani e i valori in cui la regione Piemonte e FI Commission si riconosce, quindi la condivisione, il paio di opportunità e quelle che sono appunto valori importanti nella vita quotidiana, sociale. Dopodiché non ci sono limiti tematici o di forma. L'idea è quella che ci sia una capacità di realizzare un piano di produzione e di diffusione e che ci siano quindi una capacità di progettualità in questo senso.